Buongiorno a tutti, con il video di oggi proseguiamo nell'analisi del diario di Roatta l'ultima puntata ci aveva un po' deluso, sì, sarà stato forse troppo serio, troppo istituzionale troppo corretto nelle analisi e vi assicuro che invece con i tre giorni che leggeremo oggi ossia 11, 12 e 13 ottobre mostrerà degli elementi sicuramente più stimolanti e più consoni al caro vecchio Roatta come lo abbiamo conosciuto nelle ultime settimane. Partiamo con l'11 ottobre, dobbiamo fare una premessa avevamo chiuso la puntata precedente, quella che arrivava il 10 ottobre con degli accenni alla morte di Cavallero una morte che ancora oggi è in parte avvolta nel mistero, quindi immaginiamoci 78 anni fa quando appunto vi era sicuramente un elemento di grande incertezza. Ma torniamo all'11 ottobre, arrivato Pentimalli da Napoli e Castagna dalla Sardegna non so chi assicura che Cavallero è stato ucciso con quattro colpi di pistola alla nuca la radio fascista accusa Ambrosio e me di esserci alleati in Croazia ai partigiani evidentemente si confonde coi cetnici, diciamo che la propaganda della Repubblica Sociale un po' sparava a zero contro qualsiasi cosa, non si curava troppo di definire, di andare a ben precisare le varie formazioni jugoslave che si opponevano a varia titolo contro l'occupazione dell'asse quindi in qualche modo è anche un po' comprensibile il fatto che mettesse in tutto in un calderone le resistenze monarchiche, ossia appunto quella dei cetnici con quelle dei partigiani che notoriamente erano quelle titine, quelle comuniste, ispirazione comunista quindi però è interessante come in queste settimane vengano tirati fuori questi tipi di recriminazioni postume perché poi alla fine, parliamoci chiaro, Ambrosio e Roatta quando avevano questi comportamenti erano inevitabilmente diretti dal governo fascista quindi diciamo quello che non era condannabile fino a poche settimane prima diventa adesso condannabile semplicemente perché si è mutata completamente lo scenario politico e Roatta e Ambrosio si trovano al sud col sovrano perché ripeto, fino a poche settimane prima nessun gerarca fascista, nessun membro del governo e meno che mai lo stesso Mussolini avevano troppo sottilizzato su possibili alleanze o su possibili metodi abbastanza diciamo di modus vivendi con i vari contendenti negli scenari balcanici sappiamo come i tedeschi avevano avuto notevoli recriminazioni visto il considero che vi erano degli interessi inevitabilmente diversi in gioco la Jugoslavia era, o la ex Jugoslavia come vogliamo definirla anche all'epoca era stata completamente smembrata e i tedeschi che patrocinavano anche la causa croata dei Ustascia si trovavano esattamente in contrapposizione con le desiderata italiane quindi nasceva inevitabilmente una divisione di campo anche nella gestione delle formazioni successiva al crollo della Jugoslavia e quindi se i tedeschi appoggiavano i Ustascia gli italiani invece per fare un dispetto ai Ustascia cercavano in qualche modo di appoggiare i etnici 12 ottobre, tempo ventoso, a bordo si balla un po' e abbiamo anche questo elemento di interesse ho sognato Ines e sapendo, avendo anche avuto dei commenti sulle attività erotico-amorose della coppia Roatta non immaginiamo cosa possa aver sognato Roatta mi telefonava da casa, stava bene e la mamma pure anzi, secondo la sua abitudine, diceva come prima cosa la mamma sta benissimo, stai tranquillo sembrerebbe un sogno casto Ferrazzi era andato via per pensare alla sua famiglia Boggio era venuto a Roma ma poi era sparito non poteva dirmi di più a causa di quelli di sotto ho avuto nel sogno l'impressione che nel piano di sotto del nostro alloggio si fossero insediati dei tedeschi meglio non pensare mai a queste cose faccio ogni sforzo per non fermarmi col pensiero alla famiglia e non fare congetture, altrimenti c'è da impazzire confido in Dio ieri è venuto coronati mi portava la splendida valigia di cuoio d'automobile che avevo ammirato nel suo ufficio in sua assenza ma presente il suo capo di stato maggiore naturalmente non l'ho voluta la sua villa Porta San Sebastiano o Latina che in realtà sono diverse io abito qui vicino quindi vi posso assicurare che Porta San Sebastiano e Porta San Sebastiano sono due porte diverse hanno vicine ma sono diverse è stata occupata dai tedeschi insieme alla torre di Muti che probabilmente si riferisce a Porta San Sebastiano hanno rubato il meglio e messo all'asta pubblica il resto glielo ha scritto a mezzo ufficiale scappato la sorella stamane con Zanussi visita a Cionci Lombardo a Putignano non sa nulla del marito che si trovava a Pinerolo il comando supremo annuncia che dichiariamo la guerra alla Germania lo stato di guerra comincerà ufficialmente alle 15 di domani 13 nel pomeriggio molto lavoro ieri ho inaugurato la tenuta grigio verde con Sarian e quindi finalmente trova pace anche nel tipo di abbigliamento da adottare 13 ottobre tempo migliore un po' fresco vado dall'eccellenza Ambrosio fra l'altro mi dice che è stata richiesta la liberazione di Messe Berardi ed Orlando il primo sarebbe nominato ministro della guerra il secondo comandante dei reali carabinieri e il terzo sarebbe a disposizione per assumere un comando di corpo d'armata nel pomeriggio ce ne avesse presa una nel pomeriggio perché in realtà viene Messe capo di stato maggiore generale Berardi capo di stato maggiore dell'esercito e Orlando verrà nominato sottosegretario alla guerra nel pomeriggio vado però a dirgli che nelle condizioni di fatto e dato il tipo di Messe finiremo lui ministro e io capo di stato maggiore per compiere su e per giù il medesimo lavoro molto meglio mandare o lui o me quale rappresentante italiano presso Eisenhower e fare l'altro ministro e capo di stato maggiore ad un tempo Ambrosio si rende conto di ciò assicura che la nomina di Messe a ministro avverrebbe casomai dopo la liberazione di Roma penso che presso Eisenhower si manderebbe un politico insisto affinché si mandi un militare chiunque sia e già si trovano delle trame abbastanza interessanti perché probabilmente né Ambrosio né Roatta gradiscono troppo l'iradirittura morale di Messe Radio Roma dice che io avrei avuto 200.000 sterline dagli inglesi per venire all'armistizio mentre Ambrosio 300.000 Badoglio 500.000 e il Principe Re un milione addirittura diciamo che qualora si dovessero vendere si sarebbero potuti vendere anche a prezzi più economici quindi diciamo Radio Roma è anche troppo è anche troppo larga di maniche ottimista poi aggiunge che io sono una strana figura amico intimo di Keitel nazista sfegatato eccetera eccetera sembra il binocchio tromblatan di corrida il binocchio tromblatan significa che uno vede una parte in realtà vede l'altra parte ma non basta avrei avuto anche l'onore di una interpellanza alla Camera dei Comuni si chiese se non si procederà contro di me ed Ambrosio come criminale di guerra in Jugoslavia e qui torniamo anche sempre con questo discorso che fanno presto quella Repubblica Sociale a ricriminare cose che già erano state comunque avvalorate dal governo fascista un po' tutto è cambiato affinché nulla cambi sostanzialmente in maniera gottobardesca finché stavano dalla parte tua nessuno si è mai preoccupato di vedere se erano degli stinchi di santo adesso si sono accorti che forse hanno qualche scheletro nell'armadio il sottosegretario agli esteri risponde che sapeva che io ero classificato come tale ma che il governo jugoslavo non aveva ancora fatto notificazioni in proposito speriamo bene eh tanto una fugatina una fuga in Vaticano o in Spagna non si nega a nessuno seppure anche appunto sei amico di Franco quindi diciamo fai tempo a aspettare qualche qualche condono qualche qualche tipo di disgravo di pena eccetera nel pomeriggio vado con Zanussi al comando della settiva armata per trattare diverse faccende occupato Vinchiaturo lunga visita del principe descrive la cinematografia sonoro che gli inglesi ed americani hanno fatto a Badoglio quando leggeva la dichiarazione di guerra alla Germania dice che si trattò di una scena montata apposta di cui alcune parti sono state ripetute insomma come a Cinecittà quindi diciamo si fa anche dell'umorismo sulla tipologia di attività mediatica di Badoglio con la regia anglo-americana e quindi in queste due pagine queste tre giornate troviamo degli elementi molto interessanti in cui lo spirito anche un po' umoristico di Roatta torna alla grande e probabilmente capisce che gli sta franando sotto i piedi diciamo che abbiamo già anticipato in un video precedente la destituzione di Roatta quindi sappiamo un po' come andrà a finire il problema appunto che Roatta sta cercando un po' di tastare il terreno per rimanere in sella nel senso che capisce che ci sono prospettive diverse di persone meno chiacchierate di esponenti di generale meno chiacchierati di lui che hanno combattuto meglio di lui che hanno combattuto seppur anche in condizioni peggiori e che la guerra l'hanno vissuta contro pagandola anche con la prigionia quindi questo è un elemento interessante senza andare a avere promozioni attraverso i corridoi di palazzo esercito e quindi qui abbiamo anche degli elementi di grande preoccupazione per gli Ambrosio i Roatta eccetera che si trovano un po' in bilico visto e considerato che la guerra si farà contro la Germania la prospettiva della dichiarazione di guerra e quindi in qualche modo gli angloamericani pretendono qualcosa di più e soprattutto pretendono qualcosa di più da gente seria cosa che non era ovviamente quelli gli attuali interlocutori che erano scappati nottetempo da Roma detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao